C'è una novità che vorrei affrontare con te in chiusura di questo nostro primo blocco, riguarda Masciangelo, cosa bolle in pentola? A quanto pare è stato attenzionato dal Napoli che lo sta seguendo, insomma bene per l'Arezzo, però si torna lì, Masciangelo come tanti altri giocatori, fatta eccezione di Capece che ha un biennale, dal primo febbraio alla chiusura del calciomercato potrà accordarsi con tutte le altre squadre, quindi l'Arezzo in queste settimane come ad esempio abbiamo sentito per Monaco, quindi anche per Masciangelo, se vuole capitalizzare, fare plus valenza dovrà perlomeno offrire un altro anno di contratto e poi cederlo, questa è la sintesi che potrebbe riguardare anche Masciangelo che ha attenzionato dal Napoli, vuol dire che ha fatto molto bene come d'altronde l'avevamo già notato anche noi nelle precedenti partite.